Ucciso per aver più volte sfidato, insultato e schiaffeggiato pubblicamente, minacciato e danneggiato, il capo del suo stesso clan, Cosimo Orlando, doveva morire. Solo così Giovanni Di Napoli, 62 anni, originario di Noepoli, in provincia di Potenza, detto il calabrese, avrebbe lavato l'onta. E Carla Fornari, la sua convivente, che nel frattempo però aveva una relazione proprio con Di Napoli, doveva morire anch'essa perché sapeva troppo e avrebbe potuto parlare altrettanto. Vittima innocente, il povero bimbo di tre anni. Il giorno prima della strage di Palagiano, l'episodio di sfida del sottoposto che fece traboccare il vaso. La BMW 730 di Di Napoli venne gravemente danneggiata a colpi di spranga da Orlando in persona. Il suo astio perché riteneva di non essere stato protetto ed assistito come doveva dal clan nel periodo della carcerazione. Di Napoli, intercettato e pedinato per un anno dai carabinieri, in due occasioni ha parlato della strage, con una sua amica quando in un bar disse sottovoce l'hai capito o no che sono stato io? E poi con sua moglie. A me nessuno può dare botte, dopo mio padre l'ha fatto solo un altro e adesso non c'è più. E' un modo di intendere lo Stato.